Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la date en français et des unités de mesure. Allora, oggi parleremo di come si esprime la data in francese in tutte le sue, diciamo, sfumature e anche di come si conta, di come si esprimono le misure. Quindi è molto importante imparare a farlo dal momento che si tratta di, diciamo, funzioni comunicative e grammaticali molto comuni e di tutti i giorni. Partiamo da come si esprime il concetto della data in francese. Come si chiede la data in francese? Guardate un po', ve l'ho scritto qui. C'est le combien aujourd'hui, oppure nous sommes le combien, ok? Quanti ne abbiamo oggi, vuol dire sostanzialmente, che giorno siamo? Possiamo anche dire, qui non ve l'ho messo, quel jour sommes nous aujourd'hui, ok? La risposta potrebbe essere aujourd'hui, che vuol dire oggi, aujourd'hui. Nous sommes, oppure c'est le 10 janvier. Nous sommes, oppure c'est le 10 janvier, la stessa cosa, ok? Quindi, oppure, potremmo anche dire semplicemente, aujourd'hui c'est le 1er septembre 1975. Sono tornato un po' indietro nel tempo, però pazienza. Allora, le 1er septembre vi invito a ripassare, anche come si dicono i numeri ordinali, primo, seconda, eccetera, nella lezione, diciamo, adeguata. E quindi, diciamo che abbiamo già imparato a dire la data. Lo ripeto, iniziatela con aujourd'hui, che è sempre molto elegante. Aujourd'hui nous sommes le 10 janvier, oppure quello che vi pare. Sostanzialmente la data, i mesi, i giorni, li potete ripassare facilmente sul vostro libro. Li abbiamo già visti anche a lezione, sicuramente. Allora, per esprimere il nostro dal al, è uguale anche in francese, diciamo, la scelta delle preposizioni, perché abbiamo le due preposizioni articolate du e o, ok? Che abbiamo già visto anche nel nostro percorso, le potete andare a ripassare. Proviamo a vedere, quindi, un esempietto che vi ho messo qua. Allora, juit ou douz octobre, cioè dall'8 al 12 di ottobre, il y a une fête, cioè una festa, ok? Quindi, abbiamo juit ou douz, dall'8 al 12, e di conseguenza, come potete vedere, si tratta di un vero e proprio calcolo dell'italiano, perché abbiamo la stessa forma, sostanzialmente, da utilizzare. Come si fa, invece, a esprimere, diciamo, quali sono le modalità di espressione degli anni e, vabbè, anche delle percentuali? Bisogna stare attenti, perché è diverso dall'italiano, come vi ho messo qua, ok? Con gli anni non bisogna mai utilizzare l'articolo in francese. Non posso dire il 2020, eccetera. No, devo dire 2020 a été l'année de la pandémie, ok? Quindi, il 2020 è stato l'anno della pandemia, che brutto esempio, però, vabbè, comunque. Allora, 50%, invece, con le percentuali, 50% des élèves n'ont pas étudié, pardon? Ecco, quindi, ripeto, 50% des élèves n'ont pas étudié. Perché ve l'ho messo con un asterisco? Adesso ci arriviamo. Allora, il 50%, vedete che in francese non ha la percentuale, l'articolo determinativo, non posso dire le 50%, ma 50% des élèves n'ont pas étudié. Ho messo l'asterisco qua a mateta, perché il verbo avoir, in questo caso, è messo al plurale. Il francese vi chiede di mettere al plurale il verbo con le percentuali superiori al 2%. È così. Invece, in italiano, noi lo metteremo al singolare. Il 50% degli alunni non ha studiato. Invece, il francese vi chiede di metterlo al plurale, questo verbo qua. Diciamo verbo al plurale con percentuali. Vabbè, diciamo che è un po' una sottigliezza, ma è importante ricordarlo. Quali sono le due preposizioni che invece vanno utilizzate con gli anni e i secoli? In italiano abbiamo nel, non so, nel 2012, oppure nel dodicesimo secolo. Ecco, no. In francese ne abbiamo due. Dobbiamo usarle diversamente. Quindi, con gli anni, in francese si utilizza la preposizione en. Invece, con i secoli, si utilizza la preposizione au. Cioè, l'articolo contracté au. Ragazzi, quindi state attenti. Facciamo qualche esempio. François 1er a vécu au 16e siècle. Cioè, Francesco I è vissuto, in francese ci vuole a, ausiliare, avere, convivre. Vabbè, col passé composé, diciamo, lo vedremo. Eh, oppure l'abbiamo già visto, non lo so. Ecco, a vécu, appunto, è vissuto au 16e siècle. Nel sedicesimo secolo. Quindi, insomma, bisogna, bisogna così ricordare che con i secoli bisogna utilizzare la preposizione au. Ok? Invece, con gli anni precisi, per esempio in questa frase, la rivoluzion française è commencée en 1789. Cioè, nel 1789. Userò en, perché si tratta di un anno preciso e non di un secolo intero. Quindi, con i secoli au, con gli anni en. Ricordatevelo, eh? Possiamo, però, leggere gli anni in due modi diversi in francese. Un po' all'italiana, diciamo, come l'ho soprannominato io. Perché posso dire 1789. Cioè, 1789. Dicendo tutte le, sostanzialmente, tutte le cifre. Questo 1000, ci ho messo un asterisco qui sotto. Perché è importante ricordare che il numero 1000, ok? Si scrive 1000, con un L sola, nelle date dopo Cristo. È così, eh? Però, ragazzi, è un po' una sottigliezza. Però, comunque. Invece, oltre alla modalità all'italiana, la data si può dire spezzando il numero, un po' all'inglese. Quindi, se dividessimo a metà questo numero qui, ok? Ci verrebbe fuori 1700. Ok? 17 volte 100 sarebbe. 1789. 1889. Però, voglio dire, allora, se lo leggete all'italienne, non va assolutamente male, eh? 1789. Io, per esempio, lo leggo di più così. Vabbè. Allora, ricordatevi che a volte, ok? Davanti all'anno si trova l'espression en, oppure année. Per esempio, l'an 2019, oppure l'année 1914. È la stessa cosa. Potete dirlo sia en che année. Non sempre sono intercambiabili, però in questo caso sì. Ecco, vabbè. Comunque è così. Come esprime, invece, i decenni? Per dire i decenni, devo dire les années, scusate, lo stavo dicendo alla belga. Les années 90, ok? Oppure les années 60, cioè gli anni 60, gli anni 90, eccetera. Quando è nato il prof Guagnini negli anni 90. Precisamente, il 21 juin 1990. Vabbè, comunque. Vabbè, vi invito a scoprire di che data sto parlando. Le 21 juin 1990. Quindi, su la data, j'ai tutti, ho detto tutto. On va passer maintenant aux mesures. Come si esprimono invece le misure in francese? Si possono esprimere con le seguenti espressioni. Per esempio, être large de, être long, oppure être longue de, être haut, oppure être haut de, vogliono dire rispettivamente essere largo di, cioè avere una larghezza di, è bruttissimo dirlo in italiano così, però è così. Ci vuole sempre questo de alla fine, lungo e lunga, seconda che sia femminile o maschile o femminile, o e otto ovviamente stessa cosa. Vuol dire alto di, no? Lungo di o lunga di, alto oppure alta. È alto. Noi in italiano non mettiamo questo de, per quello ve l'ho cerchiato, tra parentesi, ve l'ho cerchiato questo de. Quindi, être large de, per esempio, 3 m, 3 m, oppure être haut de, non so, 10 m, ok? Oppure possiamo usare con avoir, quindi avoir une hauteur, oppure une largeur, oppure une longueur de, plus unité de mesure. Vabbè, comunque poi vediamo qualche esempio. Oppure si possono esprimere semplicemente col verbo mesurer, plus de, long, large, oppure haut. Lo so che sembra molto complicato, ma con gli esempi vedrete che è tutto molto più chiaro. Exemple. C'est une église haute de 30 mètres, cioè alta 30 m, noi diremmo. In italiano non ci vuole questo de. In francese sì, sempre, in questi casi qua. Oppure cette église mesure 30 mètres de haut, è così. Oppure de large, vabbè, se volete cambiare, dipende da che cosa mettete all'inizio, al posto di église ci può essere qualunque cosa, ok? Oppure cette église a une hauteur de 30 mètres, cioè a un'altezza sarebbe, no, di 30 m. Ecco qua, invece, in italiano sarebbe così, ma comunque è molto molto simile. Tranne che per questo de, vedete, di fatto è quasi la sola differenza. Bisogna stare un po' attenti a come lo si usa. On va maintenant regarder, eh, e voir ensemble comment esprimer les quatre operations en français. Attenzione, io qua ero una frana in matematica, j'étais vraiment nulle en maths, donc excusez-moi, je vais essayer de simuler ma compétence en maths, ok? Simulerò la mia competenza matematica, però, pazienza, diciamo semplicemente come si esprimono questi concetti. Abbiamo ovviamente l'addition, la sottraction, la multiplication e la divisione, cioè l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione. Guardiamo come si esprimono in francese delle semplici operazioni, cioè come si legge un'operazione in francese. Allora, tre più due uguale cinque, si dirà in due modi in francese. Trois et deux font cinq, oppure trois plus deux égale cinq. Ho messo quella nt tra parentesi perché è francese con égal, in questo caso ve lo può mettere o al singolare oppure al plurale. E sarebbe eguagliano, ok? Però suona molto male in italiano. Noi diciamo semplicemente uguale, ecco. Quindi, ripeto, tre e due font cinque, tre plus due ègale cinque. Come si legge, invece, une sottraction en francese? Comment litiamo une sottraction en francese? On va la lire de cette manière, les enfants. Quattro moins un font trois. Font trois. Ecco qua, vedete? Quattro moins un font trois. Quattro meno uno fanno tre, sarebbe uguale tre. È così. Poi, come si legge, invece, la multiplication, ok? Allora, si legge sei per due uguale dodici, uguale six fois deux font douze. Perché devo mettere questo foie? Perché foie vuol dire volte. Cioè, è come se io in italiano dicessi sei volte due uguale dodici, ok? Quindi è assolutamente importante ricordarsi cosa vuol dire questo foie. Foie vuol dire la volta in senso temporale. Quindi, sei volte due, ok? Six fois deux font douze. Ecco, quindi così è, sostanzialmente. On va voir la divisione, come si esprime la divisione. Quindi, dix, pardon, divisé par deux égale cinq. Quindi, dix divisé par deux égale cinq. Vedete? Diviso, diviso per, sarebbe, vabbè. Diviso, ok? Divisé par, che è un passivo in francese, eh? Diviso due. Ecco, dieci diviso due égale cinq. Quindi, è così. Proviamo a vedere alcune espressioni sempre matematiche. Per esempio, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, cioè una decina, una ventina, una trentina. Però dirò une douzaine, ok? Cioè, una dozzina. Come si esprimono, per esempio, invece, la metà, un mezzo, eccetera? Si dirà la moitié, un demi, che vuol dire un mezzo, un tiers, un terzo, un quart, e poi dopo dovrò passare ai numeri ordinali che conosciamo già. Che vi invito a vedere nella lezione apposita che abbiamo già trattato. Un cinquième, che vuol dire un quinto, un sisieme, eccetera, eccetera. E quindi, come si leggeranno le frazioni? Le frazioni si leggeranno come segue. Attenzione che bisogna anche fare una piccola precisazione. Per esempio, tre ottavi, ho fatto la prima frazione che mi è venuta in mente, dirò trois huitièmes, ok? Oppure due quarti, lo leggerò deux quarts. Attenzione che in questo caso, huitièmes e quarts, ovviamente, anche se sono ordinali, vanno messi con la S. Perché stiamo parlando di frazioni, no? Anche in italiano lo diciamo tre ottavi, non ottavo. Oppure due quarti, non due quarto. Quindi, trois huitièmes e deux quarts. Io, diciamo, ho detto tutto. Je crois avoir tout expliqué. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Sono veramente una frana in matematica, è una roba allucinante. Quindi vi chiedo di perdonarmi. Quindi, se avete delle domande, se avete delle domande. Quindi, au revoir e a très bientot.